Bene. Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Convalidato il fermo della Moldava che ha tentato di uccidere il compagno con una coltellata in strada a Pesaro. Quattro arresti e numerosi controlli da parte della polizia di Fano nei giorni di Ferragosto. Sequestrati anche numerosi fucili da caccia. Cattedrale di Pesaro gremita per i funerali di Don Giorgio Giorgetti, il sacerdote morto di infarto mentre andava in bicicletta. Assessore lavori pubblici annuncia nuove scogliere nel mare di Fano. A Urbania, mezzo paese si mobilita per salvare Sofia, un cucciolo di capriolo trovato ferito e spaventato. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Buonasera, benvenuti a tutti cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Cominciamo dalla cronaca e come avete sentito dal nostro sommario, dal fermo convalidato dal giudice di Treviso, di quella donna, Moldava, che l'altra sera a Pesaro ha tentato di uccidere il compagno con una coltellata. E' stato convalidato dal magistrato di Treviso il fermo della donna Moldava di 32 anni, che poco prima delle due di notte del 13 agosto scorso avrebbe gravemente ferito con una coltellata alla gola il compagno 31enne romeno, di nome Marius, al culmine di una lite in mezzo alla strada in via Rossi a Pesaro. La donna è indagata per omicidio aggravato ed è stata bloccata dai carabinieri all'aeroporto di Treviso, dove stava per imbarcarsi su un volo diretto a Londra. I carabinieri appunto del nucleo operativo radiomobile che hanno raggiunto quella località tra Venezia e Treviso, quelli sono stati i momenti degli ultimi momenti della fase dell'indagine, su cui avevamo già diretto le ricerche degli ultimi momenti, e questi sono stati veramente, ci hanno poi ripagato degli sforzi fatti neanche 48 ore e ci hanno consentito di sottoporlo a fermo di indiziato di delitto. Il fermo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Treviso, come ben sapete, nel pomeriggio di ieri. Ora il giudice ha disposto alla donna l'obbligo di dimora a Fano. ...chiazza di sangue per terra con la stessa camicia dell'uomo. Quattro persone arrestate, questo è il bilancio dei controlli della Polizia di Fano nel periodo di Ferragosto. È stato un Ferragosto impegnativo per gli agenti del commissariato di Fano. 15 gli agenti dislocati su tutto il territorio che hanno eseguito controlli nelle zone più frequentate dalla città, in particolare nel centro storico, nella zona mare, ma anche in zone residenziali periferiche. Nel corso dei controlli sono state tratte in arresto quattro persone. Una è stata sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed è stata recuperata numerosa refurtiva. Gli uomini, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno arrestato in zona Sassonia un romino di 38 anni che deve ancora scontare tre anni e sei mesi di carcere per diversi furti. In zona Lido, invece, un cittadino italiano quarantenne è stato condotto al carcere di Villa Fastigi perché su di lui pendeva un ordine di carcerazione per rapine di 5 anni e 7 mesi. Sempre in zona Lido, un cittadino italiano 37enne tossicodipendente è stato condotto nel carcere di Pesaro su disposizione dell'ufficio di sorveglianza di Ancona perché ha continuato a consumare sostanze stupefacenti. Agli arresti domiciliari, invece, c'è finito un nigeriano di 46 anni condannato a un mese di arresto per guida in stato di ebbrezza alcolica, senza patente perché non l'ha mai avuta. Nell'Interland fanese la polizia ha fermato un pugliese di 36 anni sottoposto a sorveglianza speciale dal Tribunale di Pesaro con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni. Nella tarda serata di sabato scorso, nella zona di San Cesario, gli agenti del commissariato hanno sorpreso una banda specializzata in furti di appartamento all'interno di una villa non abitata intenti a forzare due armagnetti blindati. Quando gli agenti sono entrati nella villa, i malviventi sono riusciti a fuggire lasciandoli il bottino di un furto messo a segno poco prima all'interno di un'abitazione di Ostravetere in Ancona. Gli agenti hanno recuperato otto fucili da caccia, un pugnale, due scatole di cartucce e altro materiale per l'attività venatoria, oltre a numerose monete da collezione, il tutto per un valore di circa 20.000 euro. A Pesaro, Cattedrale Gremita, per il funerale questa mattina di Don Giorgio Giorgetti a celebrare il rito funebre, l'arcivescovo di Pesaro Piero Coccia insieme a Monsignor Giuseppe Orlandoni, vescovo emerito di Senigallia, già delegato della conferenza episcopale marchigiana per la pastorale degli immigrati. Molti anche i sacerdoti di Pesaro e Fano. Don Giorgio era nato a Fossombrone il 9 giugno del 1947 e ordinato sacerdote il 22 dicembre del 1973. Il ferretro del sacerdote scomparso verrà tumulato nella città natale all'interno della Cappella di Famiglia. La Guardia Costiera di Numana e Ancona ha recuperato in mare un proiettile d'artiglieria rinvenuto ad una profondità di 3 metri e ad una distanza di circa 25 metri dalla Battigia nei pressi dello stabilimento balneare Cristal di Numana. Le attività di recupero e di messa in sicurezza sono state coordinate dalla sala operativa della Capitineria di Porto, Guardia Costiera di Ancona. Una turista romagnola di 79 anni, colpita da un malore a bordo di un'imbarcazione a largo di Fiorenzuola di Focara, in provincia di Pesaro Urbino, è stata soccorsa da una motovedetta della Guardia Costiera di Pesaro. è stata affidata poi alle cure del 118, l'anziana è stata trasportata in ospedale, aveva perso momentaneamente conoscenza, ma poi si è subito ripresa, i sanitari l'hanno comunque trattenuta in osservazione al pronto soccorso. Allora, le scogliere adesso, le scogliere di nuovo al centro dell'attenzione a Fano, dopo il lavoro per installare le precedenti, ora l'amministrazione, grazie anche alla Regione, è in programma di fare altri lavori, quindi di mettere giù altre scogliere. Sentiamo che cosa ha detto l'assessore dei lavori pubblici, Cristian Fanesi, questa mattina in conferenza stampa. Questa amministrazione comunale è intervenuta in maniera positiva presso la zona di Sessonia Sud, investendo circa 4 milioni d'euro per i rifiorimenti delle scogliere che erano preesistenti, che erano appunto soffolte, e abbiamo riemerso 7 tratti di scogliera e abbiamo creato altre 9-4 scogliere a difesa di Sassonia Sud. Effettivamente questa operazione, che è stata fatta grazie ai soldi del Ministero dell'Ambiente che la Regione Marche ci ha concesso, per circa 3 milioni, ed è stata fatta anche con un'aggiunta finanziaria di 900 mila euro da parte del Comune di Fano, è stata un'operazione che in questo momento sta dando i propri frutti, perché la cittadinanza ha riscoperto un vasto tratto di spiaggia libera che adesso è molto più frequentato rispetto a prima, che permette la balneazione, che permette anche di stendersi sulla spiaggia, che prima era impossibile. Si è creato anche un collegamento tra la spiaggia di Baia Metauro con Sassonia, che prima era impossibile. E sicuramente questa è la notizia positiva per il 2017 per la città di Fano e per la difesa della nostra costa. Ma noi non ci fermiamo qui. Abbiamo già approvato due progetti esecutivi per un totale circa di 400 mila euro che serviranno a rinforzare le scogliere che si trovano dal bersaglio fino alla foccia del fiume Metauro. Cioè risalperemo le scogliere che nel tempo sono scogliere esistenti, sono dei massi che nel tempo sono scesi giù, li riporteremo in sede, aggiungeremo e porteremo circa 9 mila tonnellate di scogli nuovi per rafforzare e quindi manutenere le scogliere che appunto difendono attualmente Baia Metauro. È un investimento importante e abbiamo partecipato a un bando regionale un bando regionale che ha visto appunto un contributo da parte della regione importante ha previsto il cofinanziamento del Comune di Fano per circa 100 mila euro che ci permetterà di rafforzare le difese della costa per circa un chilometro, un chilometro e duecento metri di spiaggia a Fano. Notizia questa positiva tanto attesa da chi ci abita ma anche dagli operatori balneari e quindi dopo i lavori della Sassonia continuiamo perché difendiamo altra costa nella città di Fano. Da vent'anni in vacanza a Pesaro Liudmila Samarina cittadina russa residente a Mosca possiamo dire che è davvero innamorata della città pesarese tanto da venirci più volte all'anno non solo per assistere a Rossini Opera Festival infatti lei è appassionata di lirica ma anche in altre occasioni queste immagini la vedete mentre viene premiata dal vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini che le ha consegnato anche un attestato di fedeltà turistica a lei che tra l'altro gestisce un'agenzia di viaggi e che ha portato a Pesaro anche tanti suoi connazionali. Roberto Oreficini ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Paese dei Balocchi l'ex capo della protezione civile delle Marche ha salutato il folto pubblico presente ieri alla giornata inaugurale della quattordicesima edizione della manifestazione che, lo ricordiamo, si svolgerà fino a domenica 20 agosto in Piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano con il tema Il Sogno. Oreficini ha parlato di sisma, alluvioni e calamità che vedono ogni anno impegnati migliaia di uomini in servizio sempre più fondamentale per l'intera comunità. Al termine del dibattito invece è salito sul palco per ricevere un'altra fascia quella da sindaco il giornalista Silvestro Montanaro che sarà protagonista questa sera quando dopo aver mostrato la puntata del programma televisivo da lui diretto C'era una volta racconterà a tutti la storia di Thomas Sankara leader del Burkina Faso assassinato mentre inseguiva il suo sogno cioè quello di avere un mondo di vivere in un mondo senza disuguaglianze una storia quella raccontata dal giornalista della RAI una storia toccante che però allo stesso Montanaro costò il posto appunto nella televisione di Stato. E adesso invece torniamo a parlare del Pincio di Fano dove nei giorni scorsi dopo che sono state ripulite tutte le mura dei giardini del Pincio è ricomparsa un'altra scritta la ricorderete ve l'abbiamo fatta vedere nell'edizione di ieri del telegiornale una scritta Albania e quindi il Pincio di nuovo deturpato ebbene per sapere le ultime su questa su come verrà ripulito il giardino del Pincio come verranno ripuliti ci colleghiamo ancora questa volta con al telefono Cristian Fanese l'assessore anche perché credo che ci sia una novità buonasera assessore buonasera direttore innanzitutto dobbiamo dire che le script purtroppo sono state due sono state due una è stata cancellata questa mattina perché era facilmente accessibile e l'associazione Regresso Arti che collabora col comune di Fano da tempo per questa attività è subito intervenuta e l'altra scritta invece purtroppo è stata realizzata nella parte esterna del bastione del Nuti che dà quindi verso via Roma e via Le Gramsci e quella è più difficile da cancellare quindi con l'associazione ha diciamo modificato gli strumenti che avevano a disposizione e se tutto va bene ma come credo andrà domani mattina questa scritta sarà nuovamente cancellata e quindi sarà tolta definitivamente poi so che c'è una novità sull'autore di queste scritte mi pare che l'abbiate individuato in qualche modo è vero corrisponde al vero in realtà quell'area è stata oggetto di un'installazione di quelle telecamere che usiamo sia per analizzare le targhe delle macchine che passano su Via Le Granci Via Le Buozi Via Roma sia da telecamere di contesto e nell'ambito di queste divisioni insomma di contesto abbiamo chiesto ai nostri vigi a Polizia Municipale di capire chi se si poteva capire insomma chi fosse stato l'autore di questo gesto se mi permette sciocco esatto scellerato e pare che insomma le immagini siano uscite fuori quindi l'investimento che abbiamo fatto nel mettere le telecamere lungo questa arteria è stato ripagato parzialmente da questa scoperta attualmente le immagini i fotogrammi anzi sono diciamo alla visione della Polizia Municipale che ne farà l'uso che riterrà opportuno quindi con la Polizia Carabinieri competenti ma credo proprio che presto avremo queste immagini che ci daranno insomma gli autori o l'autore del è importante quindi poi che si si sappia insomma che ci sono le telecamere è importante dunque far vedere questi fotogrammi e quindi far sì che le persone prima di compiere questi questi atti incivili ci pensino almeno su due volte ok ormai gli occhi delle telecamere sono ovunque e quindi difficilmente si sfugge però è importante farlo sapere allora intanto la ringrazio la ringrazio assessore le auguro una buona serata allora andiamo avanti con il giornale perché c'è stato un blitz a proposito di legalità e quant'altro un blitz in spiaggia contro l'abusivismo commerciale a Senigallia c'è stato oggi ed è stato condotto dalla polizia locale e anche dalla guardia di finanze e dall'ufficio locale marittimo alla vista delle pattuglie alcuni venditori ambulanti sono fuggiti abbandonando sulla renile circa 1500 prodotti tra capi di abbigliamento e accessori vari due venditori marocchini e un bengalese sono stati invece fermati e multati per circa 15 mila euro e i tre è stato anche sequestrato un migliaio di capi di abbigliamento allora spettacolare salvataggio invece di un gatto precipitato in un pozzo asciutto profondo 30 metri a Monte Roberto in provincia di Ancona un passante sentendo in miagolia ha chiamato il 115 una squadra poi di pompieri esperta in tecniche speleo fluviali alpinistiche è a corsa sul posto e un vigile del fuoco si è calato nel pozzo indossando un autoprotettore che consente di respirare aria pulita il pompiere è riemerso poco dopo con il felino che si trova in ottime condizioni e invece l'hanno chiamata Sofia una femmina di capriolo che con al massimo un paio di mesi la vedete in queste immagini che ci hanno inviato i nostri telespettatori di Urbani i nostri reporter di Urbani e dicevo una femmina di capriolo con al massimo un paio di mesi di vita che questa mattina poco dopo le 8 o circa le 8.30 a Urbani ha sconfinato dalle colline circostanti passando per il traffico cittadino tra l'altro quello della circonvalazione fino ad arrivare in via Manzoni di fronte al comando della polizia consorziata ora ad attirare l'attenzione della gente è stato il forte lamento dell'animale molto simile ad un pianto di un bambino ci scrive questo nostro segnalatore il cucciolo era visibilmente spaventato e disorientato nel tentativo di cercare una via di fuga a più volte sbattuto contro un cancello chiuso di un'abitazione dove è stata trovata poi sanguinante con una ferita al muso in poco tempo sono accorse sul posto moltissime persone che in vari modi hanno cercato di aiutare il povero animale chi con le coccole chi cercando di darle da bere lavandole la ferita e chi cercando di trovare anche un veterinario disponibile tra l'altro i veterinari sapete per legge non possono intervenire in questo caso quando si tratta di animali selvatici l'unica cosa da fare è chiamare il centro di recupero per gli animali selvatici così come ha fatto un agente della polizia locale che ha chiamato il responsabile del CRAS che poi si è subito preso cura di Sofia ok allora auguri dunque anche a Sofia noi ci fermiamo qua dopo il telegiornale c'è una nuova puntata di Box poi in cucina con lo chef e questa sera lo speciale è dedicato a In Gir Per Fan se avete segnalazioni da fare alla nostra redazione non abbiate timore scriveteci mandateci messaggi foto e video noi siamo contenti della vostra preziosissima collaborazione ci fermiamo qui domani mattina alle 7.30 ci rivedremo in diretta per la Rassegna Stampa Occhio e Giornale arrivederci